grazie a tutti insieme abbiamo costruito il sistema delle congreghe con tanto impegno da parte di tutti il giorno dell'unità è ad un mese esatto da oggi quando l'oscurità avrà perso ed il sole sorgerà in questo momento le isole bollenti sono sul cammino della redenzione e presto sarà possibile l'utopia di un mondo libero dalla magia selvaggio c'è un'altra cosa che vorrei condividere con voi io spero di non spaventarmi ma per ringraziarvi del vostro supporto posso finalmente rivelare il mio volto grazie isole bollenti buona festa delle congreghe a tutti